Pochi giorni fa è uscito il nuovo singolo dell'artista cilentana di Vallo della Lucania Alessia dal titolo Come un lunedì ed è subito un successo L'artista in questa sua nuova avventura si è valsa della collaborazione di un altro artista sempre cilentano di Vallo della Lucania, Leo In A tal proposito l'abbiamo avuta ai nostri microfoni Il brano si intitola Come un lunedì ed è un featuring con Leo In un giovanissimo e talentosissimo rapper di Vallo della Lucania è stato veramente molto bello collaborare con lui anche perché abbiamo fuso due sfere completamente differenti ovvero la mia pop cantautorale e la sua hip hop rap Questo brano in realtà è nato con uno scopo ben preciso tanto è vero che è stato presentato alle selezioni per il festival di Sanremo per quanto riguarda la categoria giovani Ci siamo divertite molto, io in particolare, ad entrare un pochino nel mondo dell'hip hop insieme a Leo ed è stato bello, anzi è tuttora bello ripensare insomma a quei momenti quando si stava insieme, si scriveva e si creava Ora mancano un po' queste cose però siamo veramente fiduciosi che si possa ritornare a rivivere quei momenti molto 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 presto Siamo contenti e veramente molto entusiasti non solo del prodotto che poi è uscito fuori e questo ovviamente non è solo grazie a me e a Leo quanto anche alla produzione che c'è alle spalle quindi ringraziamo la Snapbit Production in collaborazione con Yuzel quindi veramente grazie e siamo entusiasti soprattutto dei risultati che stiamo ottenendo perché seppure da pochissimi giorni che insomma è online il brano è disponibile su tutti i digital store, su YouTube potete trovare il video ufficiale stiamo veramente ricevendo tantissimi feedback positivi dai messaggi alle telefonate, i like ci fanno sentire anche un po' meno lontani noi questo brano l'avremmo presentato live appunto il primo maggio e quindi abbiamo deciso di farlo uscire online il primo maggio sperando di poterlo eseguire presto nelle piazze sui palchi di tutta Italia come era previsto quindi niente, io Daniele ti ringrazio di nuovo saluto Leo, la produzione saluto tutti quanti voi continuate a cliccare come un lunedì su YouTube condividete, condividete, condividete quanto custodiare chi vuole di amare è inutile cercare un compromesso per restare non c'è il modo di salvare questo amore se poi stiamo insieme